Musica Salve, sono Cristiano Bernacchi, responsabile dell'area didattica del museo e sono qui per presentarvi un affascinante caccia al tesoro lungo le vie del borgo medievale attraverso Rebus, Indovinelli e Quizio Musica Quindi la cosa importante è la completezza delle prove dopodiché voi seguite i percorsi e tenetevi a quello che c'è scritto c'è scritto tutto Musica La caccia al tesoro La caccia al tesoro che avete appena visto rappresenta un'occasione unica di approfondimento storico e culturale sulla città di San Gilignano dove divertimento e spirito di gruppo fanno da protagonisti Si ricorda che esistono due versioni della caccia al tesoro una per gli studenti, che è quella che avete appena visto e una per gli adulti Chiamateci allo 0577 94 10 78 e saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande e curiosità Vi aspettiamo, a presto! Musica 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 Musica